Martedì 17 luglio, ben ritrovati su Arcelli Web TV. Si contano i danni del violento nubifragio che nel pomeriggio di ieri ha colpito Valenza. Vediamo il servizio. A Valenza si fa la conta dei danni il giorno dopo la violenta bomba d'acqua che era colpita lunedì. La città, nel primo pomeriggio di lunedì, è stata infatti colpita da un'acquazione di notevoli dimensioni, una portata d'acqua notevole che ha creato numerosi problemi sia nel centro città, con un viale della Repubblica che qualcuno ha definito diventato quasi una piscina, ma soprattutto nella zona vicino al palazzetto dello Sport, dove la massa d'acqua è andata a impattare e ha colpito alcune attività, non tanto il palazzetto che è rimasto illeso, ma alcune attività, quella di un gommista, quella di un elettricista e molte cantine. I soccorritori, i volontari Vigili del Fuoco di Valenza, l'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco di Protezione Civile, il personale del Comune, sono intervenuti nell'arco di tutto il pomeriggio di ieri e si sta intanto anche facendo, come ha detto il Sindaco Gianluca Barbero, la conta e la stima dei danni. Da rilevare anche che una parte della massicciata ferroviaria aveva avuto un cedimento fortunatamente leggero, c'è stato e si è verificato un'interruzione del traffico viario nelle vicinanze, poi è riaperto alle 16.30 dopo un intervento e un controllo, un sopralluogo dei tecnici delle ferrovie. Ma ci sono stati anche alcuni momenti di tensione e di paura, in particolare in Viale della Repubblica, dove una ragazza è rimasta bloccata nell'ascensore con l'acqua che stava salendo ed è poi stata salvata da un inquilino del condominio dove abitava, che ha rotto il vetro dell'ascensore ed è riuscito a farlo uscire. Tre persone sono rimaste bloccate e sono state salvate da Vigili del Fuoco nella palestra Gorà, in via Melgara. Insomma, un lunedì che sicuramente i valenziani vorranno dimenticare. Nei giorni scorsi Gianfranco Francese, responsabile della società Bocciofila direttantistica Olimpia 90 di Vercelli, ha consegnato al direttore della neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Vercelli, Paolo Rasmini, una donazione di 5.000 euro come contributo da destinare alle attività della struttura. In particolare, il denaro servirà per acquistare test, diagnostici e strumenti per poter effettuare interventi di riabilitazione nei piccoli pazienti affetti d'autismo. Previsti anche investimenti utili per agire sulla disabilità cognitiva e i disturbi dell'apprendimento. La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ogni anno offre un aiuto alle scuole industriali di Nassoro, in Mozambico, dove è presente una missione gestita dalla Diocesi di Vercelli. La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ha confermato anche in questo bilancio l'intervento a favore del centro di Nassoro. Che cosa motiva questa decisione? Per la Fondazione è un impegno che dura ormai da oltre un decennio ed è un elemento di vanto sicuramente perché un intervento che crea dell'occupazione, che crea attraverso la formazione professionale delle possibilità di generare del lavoro è sicuramente uno dei compiti della Fondazione. Oggi questa scuola lo diciamo con orgoglio perché abbiamo sostenuto un'iniziativa che oggi è arrivata ad avere oltre 900 studenti con delle specializzazioni ogni anno più ricche e più diversificate per cui sicuramente il sostegno della scuola di Nassoro verrà confermato anche in futuro. Ed ora un attimo di pubblicità e poi lo sport. Sabato prossimo presso il campo del Piemonte Sport di Corso Rigola a Vercelli si terrà l'open day dedicato al calcio femminile. Ce ne parla il presidente della società Luca Sagristano. Sì, sabato noi innanzitutto buongiorno a tutti. Sabato avremo un open day dedicato a tutto il settore femminile anche perché noi già avevamo una primavera femminile che da quest'anno si chiama Juniores e quindi faceva un campionato regionale nel Torinese. Abbiamo giocato anche contro la Juve, Toro e quest'anno visto che la Provercelli ha sospeso il femminile, le ragazze delle under 15 femminili della Provercelli verranno da noi. Quindi si è deciso di fare nonostante i lavori del campo che stanno facendo nuovi spogliatoi e nuove cose, si è deciso di fare questo open day per ragazze dal 2000 al 2009, nate dal 2000 al 2009. Quindi vi aspettiamo sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 circa. Ci saranno i mister, si farà un po' di allenamento, qualche partitella tra ragazzini e quindi... Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto e noi ci vediamo come sempre domani.